Disturbi alimentari nelle marche Si abbassa sempre di più la soglia d'età di chi ne soffre Ne parliamo con l'ospite in studio Allevatori stritolati dai costi, foraggi ed energia alle stelle Rischiano di far scomparire decine di aziende Io reporter e diritto in pillole le due rubriche del TG di oggi Nella rubrica sportiva la Maratona di Loreto è il balzer delle panchine nei campionati dilettantistici Buongiorno, bentrovati, benvenuti a All News 13 e 15 Il TG di TVRS in diretta da Fano Anche oggi abbiamo un ospite in studio Con il quale disquisiremo del primo titolo che avete sentito nel nostro sommario Saluto subito il dottore Roberto Ansuini Benvenuto, il referente Marche per l'associazione Mi Fido di Te Con la quale vogliamo parlare del problema che abbiamo lanciato nei titoli Allora, disturbi alimentari, soglie che si abbassano Dottore, qual è un po' la situazione nelle marche rispetto al panorama nazionale? Nelle marche più o meno si ripresenta il quadro che è a livello nazionale Con un'incidenza che raggiunge soprattutto nelle fasce più giovani Nell'età giovanile l'8-10% delle ragazze e lo 0-1% dei maschi Considerando le ultime indagini che sono state fatte al riguardo Si parla di oltre 40.000 persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare All'interno del quale sono considerate tante tipologie e tante patologie In Italia abbiamo 3 milioni e mezzo di pazienti, di malati Ed è rappresenta la malattia, rappresenta la più frequente causa di morte Tra le malattie mentali e soprattutto nei giovani E rappresenta anche solo gli incidenti stradali Hanno un'incidenza maggiore nei ragazzi Nelle marche questa patologia è stata affrontata in maniera molto seria Negli ultimi 6-7 anni Per cui si è giunti nel 2020 a ottenere Grazie alla spinta di associazioni dei genitori fondamentalmente Che erano quelli più preoccupati della situazione che si stava creando Ottenere una legge regionale Siamo stati la seconda regione in Italia ad avere una legge regionale Che ha permesso di implementare e di completare nell'organico e nei servizi Quelle strutture ambulatoriali che già esistenti Ma che pativano una sofferenza di personale Dopo nel secondo blocco parleremo anche di quali sono questi centri E li capiremo e capiremo anche come affrontare questa problematica Noi abbiamo fatto come sempre un giro tra operatori del settore Ma anche gente comune per sentire qual è la percezione di questo fenomeno Sentiamo appunto il contributo assieme al dottore E poi rientriamo in studio Un rifiuto del cibo o anche atteggiamenti come grandi abbuffate Come conseguenza di un profondo disagio personale Che spesso trasforma la voglia di essere magri e belli in patologia E questo si è visto soprattutto aggravato dall'utilizzo di social Che propone determinati tipi di modelli e stereotipi di bellezza Quindi dei modelli fondamentalmente irraggiungibili Una volta il pediatra probabilmente lo vedeva proprio eccezionalmente il fenomeno Adesso come tanti disturbi psicologici, psichici Sicuramente l'età dei disturbi si è anticipata Insomma si è abbassata È necessario un approccio multidisciplinare Non è per niente semplice affrontarli È necessario lo psicologo, il dietologo Una terapia all'interno della famiglia Ed è abbastanza dura E ci lamentiamo un po' Perché qui proprio la presa in carico Localmente non è poi così facile Qualche segnale negli ultimi anni della scuola media è arrivato Si tratta prevalentemente se non esclusivamente di ragazzine E da quello che ci sembra di capire con tutta l'ignoranza Diciamo da un punto di vista scientifico È che ancora c'è un po' il tema dell'adeguamento a dei modelli A dei modelli di riferimento Che vogliono il corpo delle donne in un'alternata maniera C'è anche sicuramente un segnale di sofferenza Di disagio che va oltre questo tema I bambini soprattutto le quinde che sono uscite l'anno scorso Si comportavano molto bene a mensa Forse educati anche dal piano alimentare della mensa Ma anche grazie al mercoledì della frutta che abbiamo inserito a scuola Quindi abituati a mangiare più sano rispetto alle solite merendine o alla pizza Sempre più ragazzi, bambini L'età si è abbassata fino sotto i 10 anni Questo sicuramente, questi due anni non semplici Soprattutto il periodo del 2020 con i lockdown Ha portato a creare tanta ansia, tanto stress Soprattutto nei più fragili, nei ragazzi, nei giovani Bisogna avere più attenzione, più attenzione in famiglia Ma soprattutto è alla base l'educazione alimentare Se noi educhiamo i nostri figli alla nostra dieta mediterranea Fatta di 5 cose Verdura, frutta, cereali integrali, legumi, le oxavergine di oliva Se noi insegniamo questo quotidiano l'importanza del cibo Il baciare il pane che sembra un gesto desueto e anche non compreso Invece tutto questo è cultura, tutto questo è tradizione Tutto questo è benessere Tutto questo è benessere Metodiche e anche approcci L'associazione, io mi fido di te Ha spinto molto per avere una legge a livello regionale E noi siamo messi un po' meglio rispetto ad altre situazioni Siamo messi certamente meglio rispetto a quello che era la situazione prima diciamo Siamo del 2019, per metterlo nel termine temporale Siamo messi meglio, l'associazione, mi fido di te ma anche altre associazioni Che hanno lavorato insieme in regione per portare avanti all'interno di un tavolo tecnico regionale Istituito ai tempi già del presidente Spacca Hanno lottato per riuscire ad ottenere e soprattutto per far capire ai politici l'importanza di un approccio diverso a questa patologia Oggi abbiamo quattro centri nelle marche ambulatoriali Tre sono esclusivamente ambulatoriali a Fermo, Aiesi e a Pesaro C'è un centro ospedaliero presso il Salesi Che si interessa soprattutto delle problematiche dei minori E dispone anche di posti letto E abbiamo una residenza, uno centro residenziale Che è proprio partito nel luglio del 2022 Che sta operando a San Marcello di Iesi In una bellissima location Che accoglie questi pazienti nel migliore dei modi E poi abbiamo la disponibilità di strutture ospedaliere per acuti Nei casi in cui è necessario un ricovero salvavita Che per fortuna sono la minoranza Però siamo messi davvero bene Il problema è come arrivare E quindi è l'approccio iniziale a questi centri Il problema è questo È stato accennato Spaventa le famiglie Uno non sa che pesce prende Dalla pediatra Quindi la prima cosa è l'attenzione che deve essere rivolta Agli nostri ragazzi, agli adolescenti Da parte della famiglia Ma anche e soprattutto Da parte della scuola Degli educatori scolastici E anche dagli allenatori Delle società sportive Che possano riuscire a cogliere i primi segni del disturbo E del malessere che sta vivendo questo ragazzo Da lì poi parte il coinvolgimento del medico di riferimento Che è il medico di base o il pediatra E la formazione di queste figure è fondamentale Perché quantomeno far conoscere a queste figure Le vie, le persone, i professionisti Che possono poi seguire per sempre questi ragazzi In un approccio multidisciplinare Come è stato detto Non basta lo psicologo Serve il neuropsichiatra Serve l'internista Serve il nutrizionista Un po' di professionisti Ecco dottore Grazie per questo quadro Questo spaccato Quindi non brancoliamo nel buio Affidatevi ai professionisti Che sono coloro che E che nelle marche Per fortuna ci sono Ci sono Bene Grazie Allora cambiamo radicalmente Lo scenario delle notizie E tipo di preoccupazione Perché abbiamo Un altrettanto argomento Sentito Che è quello degli allevatori Che purtroppo Come avete sentito nei nostri titoli Affrontano situazioni particolarmente gravi Caro energia Foraggi Con costi alle stelle Si rischia la chiusura Di decine e decine di aziende Il servizio di Manuelita Scocco Cresce il prezzo dei cereali A livello mondiale E di conseguenza Schizzano i costi Anche nelle stalle marchigiane Il settore in crisi da tempo Ora è strozzato Per l'esplosione Delle spese di produzione In media del più 60% Legata ai rincari energetici Che arrivano Fino al più 95% Dei mangimi Al più 110% Per il gasolio E addirittura Al più 500% Delle bollette Per l'elettricità L'analisi è di col diretti Marche E a confermarla È anche un giovane agricoltore Allevatore di fermo Le nostre bollette Sono raddoppiate Il prezzo del gasolio agricolo Anche quello È quasi raddoppiato Poi il maltempo La siccità Hanno dimezzato i raccolti Per lo meno in questa zona Io avevo un raccolto di grano Che uso per gli animali Che andava dai 60% 64 quintali per ettaro Quest'anno ho avuto zone Da 32 a 34 Fate anche da tutori del territorio È un presidio il vostro? Sì, il nostro è un presidio Perché curiamo i terreni Tenendoli puliti Sia attraverso gli animali Che anche per evitare appunto dissesti Soprattutto anche la cura dei terreni È importantissima Prima di tutto perché I terreni sono di agenda alle strade Quindi un terreno mal curato Porta sporco sulle strade Crea frane E poi Noi lavoriamo sui terreni Quindi devono essere ben curati Per noi e per gli altri Il futuro come lo vedi? Il futuro è sicuramente Invervio Il futuro è un po' fuscato Però stringiamo i denti E andiamo avanti Stringiamo i denti È il laconico commento Dell'allevatore Ma ci sono anche altre preoccupazioni Crescente L'attività degli ungulati Nei centri urbani La fauna selvatica In forte cresce È sempre più vicina Alle zone cittadine A parte avvistamenti Di lupi Che spessi si spingono Fino ai confini delle zone abitate Sono da registrare due episodi Che riguardano i cinghiali Ieri una famiglia di cinghiali Appunto è stata avvistata Mentre passeggiava tranquillamente In via della ferrovia d'Ancona Mentre è andata peggio Ad una famiglia di Agugliano Padre, madre e due bambini piccoli Allora l'auto si è schiantata Contro un grosso cinghiale E sono rimasti chiusi Nell'auto Bloccata per diversi minuti Per paura di una aggressione Della bestia ferita E recentemente Il Presidente della Repubblica Ha insegnato medici e infermieri Che sono stati in prima linea Durante la drammatica ondata Del Covid Quando davvero non c'erano Le armi Né per difendersi Né per conoscere a fondo La malattia Momenti durissimi quelli Il Dottor Fabrizio Valeri Di Fano Uno dei medici più impegnati Durante quel difficile periodo Qui in questa zona Tra gli insegnati Proprio del titolo di Cavaliere Al merito Abbiamo chiesto a lui Se è il caso Con lo scenario attuale Di abbassare la guardia Sentite il suo commento No Non bisogna abbassare la guardia Perché Lo scenario è diverso Di polmoniti Virali Da Covid Ce ne sono Poche Io A meno dei miei pazienti Non ne ho avuto Però ho sentore Di altre persone Che hanno polmoniti Sono in rianimazione Soprattutto quelle Che non si sono mai Avvicinate al vaccino Dico mai avvicinate perché Nel senso che Magari con una potenziale Malattia Magari uno ha avuto Un'infezione Un anno fa C'è qualcuno che invece È rimasto pulito Da questo punto di vista Non si è avvicinato Il vaccino Ultimamente Ho sentito Che hanno Ci sono dei pazienti Che hanno avuto Un'infezione E sono abbastanza gravi Anche proprio Da arrivare Alla rianimazione Con polmoniti importanti Quindi Ecco Per chi non ha mai Avuto niente Io starei Molto attento Come le mascherine State attenti Voglio dire Cambia poco Andare in un autobus Andare in un posto Un pochettino Pieno di gente Una mascherina Non guasta Questo è il mio consiglio Spassionato Fermo Un quarantenne Cambiamo Cambiamo notizie Andiamo sulla cronaca Con precedenti Della provincia di Macerata È stato arrestato Dalla polizia Per aver Fatto esplodere Un ordigno Sotto l'auto Di un'amica Di una sua ex L'episodio è avvenuto Il 20 di settembre scorso A Porto Sant'Elpidio L'uomo era convinto Che l'amica Avesse con qualche responsabilità Per la fine Del rapporto Con la sua Ex l'ordigno Artigianale Causò danni Alle finestre Di alcune abitazioni Adiacenti Al marciapiede E a una cabina Dell'Ener Bene Siamo giunti All'appuntamento Con voi T.Voi.RS Numero in sovraimpressione Che adesso appare Che vi dovrete segnare Sul vostro cellulare A tenere a portata di mani Di mano Per fare i video E poi mandarceli In video Naturalmente Se potete Fateli in orizzontale Col telefonino Mandateceli E noi li caricheremo Sulla rubrica Delle rubriche Io reporter Sigla Bene Immagini eloquenti Della zona di via Telespettatore Andrea Che ci ha mandato Il video Sollecita Da diversi Da diverso tempo I residenti E anche i quartieri Più popolosi Della città Perché ci sia Un Messa in sicurezza Di questa zona E che la normalità Regni Bene Ed ora La seconda rubrica Di oggi Diritto in pillole Giorgio da Fabriano Ci chiede Perché ci sono Molte economie Economia politica Economia del dono Green economy Economia circolare Cosa significa Per quale motivo Allora Giorgio Devi sapere Che l'economia In realtà Non è una scienza esatta Come si intende Come molti vogliono Far intendere E come Come la matematica L'economia È una scienza sociale Che studia Le relazioni Tra gli individui E quindi Le complessità Delle relazioni economiche All'interno Della società Devi immaginare Come Se noi potessimo Inserire Tutte queste relazioni Questa complessità All'interno Di una stanza virtuale Che ha Questa stanza virtuale Che ha la particolarità Però di avere Più dimensioni Anche cyber spazio Quindi più dimensioni Sia temporali Che Diciamo Relativi allo spazio E appunto E al tempo Immaginare Che questa stanza Si è chiusa Da una porta E da questa porta Ci siano tanti fori A seconda Della sensibilità Del singolo economista Di colui Che va a studiare Le analisi economiche E appunto Il singolo economista Si affaccerà Cioè con l'occhio Guarderà da un foro Piuttosto che da un altro In questa maniera Ha idea Che c'è una complessità Ma riesce a mettere In luce E a dare La sua prospettiva Diciamo di studio Di analisi Solo su un piccolo pezzo Della realtà Economica E sociale Ecco che quindi Che l'economista Che ha una maggiore sensibilità Verso l'ambiente Guarderà dal buco Dove potrà vedere meglio Le relazioni Relativamente Alla sostenibilità ambientale Colui che ha Una maggiore sensibilità Verso La realizzazione Del massimo profitto Guarderà quindi E quindi L'economia capitalista Guarderà dal foro In cui mette In relazione Per l'appunto Tutte I modi Per poter massimizzare Il profitto O massimizzare L'utilità O individuare Diciamo Un'economia Per così dire Più razionale E così A seconda Della cultura Delle predisposizioni Ma anche Da ciò Che l'analista Economico Vuole andare A dimostrare Ci saranno Diverse prospettive Diversi modi Di vedere Di studiare La stessa cosa Che poi In sostanza La complessità Delle relazioni Economiche e sociali Che Che fanno Che costituiscono La nostra realtà Bene Grazie alla professoressa Katia Gentilucci Per rivolgere domande In questo ambito Utilizzate sempre Il numero In sovraimpressione Il numero di Whatsapp Citate la rubrica Per quale volete La risposta E il vostro Quesito E poi Vi risponderemo È Roberto Cardinali Il consigliere delegato Di Tecnofilm S.P.A. Di Sant'Elpidio Il mare Il nuovo presidente Di Confindustria Marche È stato eletto All'unanimità Cardinali Succede a Claudio Schiavoni Per lui Un compito Delicatissimo In un momento Forse cruciale Per il comparto Industriale Marchigiano Siamo arrivati Allo sport Con Sportivamente Sport che apriamo Con il calcio Con una nota diffusa Ieri L'Ascoli Prende le distanze Da qualunque comportamento Scorretto Che eventualmente Possa essere ricondotto Ad un suo Tesserato Il riferimento È a un presunto episodio Avvenuto domenica mattina Secondo la società Dilettantistica locale Un dirigente bianconero Nel corso di una gara Del settore giovanile Avrebbe avvicinato Dei calciatori Chiedendo nominativi E numeri di telefono Per essere poi Contattato Dalla società Il comunicato Si conclude Affermando che L'Ascoli Si riserva Di adottare Tutte le decisioni Necessarie Per Al fine Di tutelare Il club Bene Restiamo In tema Di calcio Sembra iniziato A ritmo sostenuto Il ballo Delle panchine Marchigiane Si sono presentati In trecento Al via Della 46esima Marcia Lore calde Nei campionati Dilettanti Marchigiani Soprattutto Per quanto riguarda Le panchine Ma anche Per diversi calciatori Che stanno salutando I rispettivi club Partiamo Dalla serie D Dove in casa Monte Giorgio C'è un cambio Della guardia Come allenatore Mister De Angelis Si è dimesso Per motivi personali E il sostituto Sembra essere È stato individuato In Gabriele Baldassarri Un ritorno Per lui Con la casacca Dei Fermani Scendiamo in eccellenza Dove sono due Le panchine saltate Nelle ultimissime ore Si tratta di club Blasonati Come Maceratese E Fabriano I biancorossi Hanno esonerato Mister Trillini Dopo il pesante KO interno Contro il Castelfidardo E affidato La guida tecnica A Peppino Amadio Ex mister Dell'Azzurra Colli E senza dubbio Un temperamentale Che potrebbe dare La carica giusta Alla rata Sulla sponda Dei Cartà è invece pesante Il KO interno Per 0-4 Contro l'Atletico Ascoli Il club Ha deciso Per l'esonero Di mister Francesco Farsi Ad ore Dovrebbe essere Comunicato Il sostituto Movimenti Anche per quanto riguarda I calciatori Anche se il mercato Inizierà ufficialmente Il primo dicembre La San Giustese Mario Titone Si sono detti Addio In maniera consensuale Così come Il Fossombrone Ha salutato L'attaccante Del Sante Scendiamo in promozione Dove nella serata Di ieri C'è stato Un duro confronto Tra dirigenti Staff tecnico E calciatori Del Trodica La società Ha optato Per sospendere Momentaneamente Tre calciatori Il difensore Ciaramitaro E gli attaccanti Ruzzi e Cucu Questa settimana Saranno certamente Ai box Bene dal calcio Passiamo all'atletica Con la maratona Di Loreto Si sono presentati In 300 Al via Della 46esima Marcia Longa Lauretana Che poi tanto lunga Non è stata Poiché la gara Di 10.100 metri Ma su un percorso Non sempre facile Anche se spettacolare Visto che si attraversano I luoghi Della spiritalità mariana Oltre alla classica gara Gli organizzatori Hanno messo in piedi Una passeggiata Che ha attraversato Il centro storico E Lemura Oltre ad una gara Di 500 metri Per giovanissimi atleti L'aspetto agonistico È stato senza grandi sorprese Poiché Stefano Massimi In questo momento È indubbiamente Il numero uno Alle marche E non solo Stefano parte subito Forte E scava un solco Tra lui E i diretti inseguitori Capitanati D'Andrea Falasca Zamponi Con Mattia Franchini La teta di Villa Musone Di Loreto Federico Carinti Gianluca Squadroni Ed il rientrante Marco Bianchi Che giungono Al traguardo Nell'ordine Nel settore femminile Ho fatto gli amministratori locali Presenti con il sindaco Moreno Pironi Il vice sindaco Nazareno Pichetti L'assessore allo sport Cristian Ticaglia Immancabile Ormai da vari anni Il vescovo di Loreto Fabio Dalcin Che ha benedetto I partecipanti Prima del via E che conferma Quindi Loreto Città dello sport Cultura e cultura E fede Mercoledì come sempre Le ore 22 e 10 Un ampio servizio Bene Vi ricordo che per le notizie di sport Ma anche la cronaca E l'attualità Avete a disposizione Il nostro sito UTVRS Basta che digitate Sui motori di ricerca UTVRS E vi compare la home page Quella che vedete In questo momento E quella online Con appunto L'aggiornamento Di cronaca Qui c'è una notizia Che riguarda appunto Una giovane donna Incinta Finita all'ospedale Mentre attraversava Le strisce pedonali E quindi potete stare In collegamento Con le nostre news E il nostro giornale online Attraverso appunto Questo sito Vi ricordo Prima della sigla Gli appuntamenti per oggi Alle 14 e 15 Dopo di noi Like Music Mark E poi 15 e 40 Una nuova puntata Di Alla ricerca della bellezza E alle 17 Il consueto appuntamento Quotidiano Con le favole Di Nonno Racconta Grazie per essere stati con noi L'informazione torna Questa sera Alle 20 e 15 Arrivederci Amici 3B Meteo Bentornati a questo aggiornamento Delle nostre previsioni Per la giornata di martedì Che vedrà Lento avvicinamento Di una perturbazione atlantica Questa che vediamo Nell'immagine Alle nostre regioni In particolare A quelle di nord ovest Quindi giornata ancora discreta Ma con nubi in aumento Sulla parte nord occidentale Lo vediamo anche Dalla previsione Della nuvolosità Ecco queste prime nubi Che arrivano Sull'Italia di nord ovest Attraversano in parte Anche il nord est Ma la giornata Sarà ancora più che discreta In effetti Anche come precipitazioni Per il momento Poco da segnalare Prime goccioline di pioggia In giornata Sulla Liguria centrale Poi probabilmente Verso sera Qualche goccia Ma si parla proprio Di piovigine Andrà a interessare Anche parte Della Lombardia Quindi in definitiva Giornata nel complesso Ancora bella Da nord a sud Però con qualche nuvole In più a nord A specie diciamo Al nord ovest Prime gocce di pioggia In Liguria Qualche goccioline In serata Anche in Lombardia Come temperature E valori diurni Intorno ai 20-22 gradi Al centro sud Qualcosina E meno a nord E al primo mattino C'è sì sempre Bisogno di coprirsi Un po' bene Ma temperature minime In lieve Graduale Rialzo Per sapere comunque Nel dettaglio Cosa capiterà Proprio da voi Nei prossimi giorni Consultate L'app gratuita Di Trebi Meteo